Correvano gli anni 70 in Italia, anni di piombo, di violenza politica e creativa, quando un noto semiologo, filosofo, accademico, il vero ritratto dell'uomo intellettuale italiano, Umberto Eco, sentì l'irreferabile desiderio di scrivere un romanzo. Cosa abbastanza semplice a farsi per uno con la sua cultura, fine medievalista, grande collezionista di libri antichi, conoscitore non solo dell'altissimo letterario, ma anche della letteratura di genere, persino della cultura pop. Era semplice per un uomo così scrivere un romanzo, ma perché farlo? Era già riconosciuto a livello accademico internazionalmente per il suo essere uomo di lettere tradotto. Eppure Umberto Eco non riuscì a resistere a questo impulso e nel 1980 arrivò come un fulmine a ciel sereno nelle librerie italiane e del mondo Il nome della Rosa, il suo primo romanzo, il più famoso, quello che gli diede fama internazionale e globale, che rese Umberto Eco quello che conosciamo ancora oggi, quello che è scomparso nel 2016, non solo una figura dell'altissima letteratura e cultura italiana, ma anche una figura capace di rapportarsi al pop, alla televisione, ai social, a Mike Bongiorno. Il punto di svolta della sua carriera, forse della sua vita letteraria, è stato proprio questo romanzo. Eppure nel 2016 Umberto Eco è morto rimpiangendo di averlo scritto, dicendo persino di odiarlo Il nome della Rosa, un romanzo che con il senno di poi trovava un po' goffo, non sempre ben definito, addirittura errore imperdonabile, con qualche imprecisione storica. Eppure il suo giallo storico, ambientato nel novembre del 1327, in un'ignota abbazia dell'Italia settentrionale, rimane il suo capolavoro. Il fatto che lui lo odiasse e che nel 2012 abbia dato alle stampe un'altra versione, riveduta e aggiornata, ne conferma questo status. Di fondo, il capolavoro, cosa è, se non quel libro che continua, anche dopo essere stato pubblicato, dopo aver avuto successo, a tormentare il suo creatore, a chiedergli di essere riscritto, di non rimanere mai troppo lontano dalla sua scrivania? Il nome della Rosa è quel capolavoro. Lo era 40 anni fa e lo è ancora oggi, nel 2019, quando Rai ha deciso di tirarci fuori una serie. Ma vale ancora la pena leggere il nome della Rosa nel 2019? La risposta è assolutamente sì. E non solo perché è forse l'ultimo grande classico del Novecento letterario italiano, un classico che venne riconosciuto forse già negli anni Ottanta come tale, fu di sicuro un tormentone letterare, un libro di rompente che ebbe un successo incredibile. E nonostante negli anni poi sia diventato un po' l'immagine più vivida del tomone che tutti dicono di aver letto, ma in realtà quasi tutti si sono informati con il film, rimane una lettura piacevolissima, intrigante e secondo me facilmente accessibile per chi legge abitualmente romanzi. Dal tonne non stiamo parlando solo di un tomone con delle parti in latino che parla di una diatriba squisitamente politica e religiosa, ovvero il fatto che il Papa è arrabbiatissimo con la corrente dei Francescani perché sostanzialmente predicano così tanto la povertà da farlo sembrare un riccasto ravido e quindi vorrebbe scomunicarli. E quindi l'ordine dei Francescani si trova in una bazzia con gli emissari di vari ordini per tentare di decidere cosa fare e quindi ecco Guglielmo da Baskerville, questo personaggio fittizio il cui nome e la cui descrizione fisica richiama Sherlock Holmes, arrivare in questa bazzia seguito dal fedele Azzo da Melk che è quello che racconta la storia in questa pergamena ritrovata un po' con l'esperiente manzoniano che viene raccontata da Echo che ci dice Azzo da anziano quando sente già l'ombra della morte e decide di raccontare questa storia di quando lui era giovane e io la racconto a voi. Sherlock Holmes, Manzoni, i riferimenti letterari sono tantissimi perché di fatto questo è un libro autenticamente degli anni Ottanta, è un libro postmoderno, un pastiche di tanti generi e tante cose differenti. La cosa bella è che uno se lo può godere leggendolo e rileggendolo su tanti livelli diversi, potete appassionarvi al giallo che è un giallo incredibile, è una delle migliori detective stories che leggete nella vostra vita. Sangue è stato versato in una bazzia e non in una bazzia qualsiasi, in una bazzia in cui si parla di scomunica, in una bazzia in cui si mormora ci siano degli eretici, in una bazzia che è una culla del sapere europeo, una delle più fulgide perché dentro la bazzia come se fosse una fortezza c'è un fortino vero e proprio pieno di passaggi segreti e rigidamente sorvegliato e dentro cosa c'è? Dentro c'è un luogo dove si copiano gli antichi manoscritti, ma non solo, c'è una biblioteca, una biblioteca famosa in tutta Europa che ha richiamato Guglielmo da Baskerville perché lui è un grandissimo amante del sapere, è l'appassionato moderno di libri che sta lì su Bookstagram a mettere tutti i cuoricini, a tenere tutti i suoi libri in ordine, li vuole tutti, è fisicamente, appassionalmente, carnalmente attratto dai libri e quindi non vede l'ora di andare nella biblioteca, ma ahimè questa biblioteca gli è per il momento preclusa, la batte gli chiede Guglielmo ti prego dammi una mano, c'è un assassino, qui si muore ma che ci sia persino lo zampino del diavolo, Guglielmo è una persona fortemente razionale che al diavolo non crede granché, anzi sembra un po' un ateo che indossa un saio e decide insieme al suo pischello, figlio di un nobile che gli è stato affiancato in una sorta di tirocino spirituale, di indagare. Questo è l'incipite di un giallo fantastico in cui non mancheranno cadaveri, colpi di scena, soldi di passioni e soprattutto misteri che riuscirete a poco a poco a penetrare solo grazie all'acuta intelligenza di Guglielmo, sono misteri costruiti per essere affascinanti e indecifrabili, però sono assolutamente agili nell'essere proposti, l'assassino è molto bravo a sgusciare dalla vostra attenzione e una volta che scoprirete chi è stato rimarrà uno dei finali che non riuscirete a dimenticare. È un libro cesellato a poco a poco da una mente non solo sapientissima ma anche diabolicamente intelligente. Basta dire che la famosa libreria che diventerà un'avventura dentro l'avventura del libro è stata ideata ben con un mese di lavoro dal tavolino di Umberto Eco che si è messo lì e per un mese ha pensato come costruire questa libreria ricolma di libri anche un po' proibiti. E quindi uno si può leggere l'avventura investigativa di Guglielmo come se fosse fratello Catfield saltando tutte le minate dei frati, degli ordini religiosi, dell'eresia, delle scomuniche, le parti in latino e goderselo ugualmente. Oppure potete avvicinarvi al libro col monocolo e piglio accademico schifare la parte gialla e immergevi in questa strepitosa ricostruzione medievale dall'alto, si può ben dirlo, della cultura sconfinata che Umberto Eco ha rispetto a quest'epoca completamente scevra di quel pregiudizio figlio dell'approccio rinascimentale a quell'epoca del secolo buio e oscuro di superstizioni. Chiariamoci, pullula di superstizioni, tant'è che alcuni mormorano che questi bcdi siano opera del demonio, però pullula anche di uomini che ragionano tanto da mettere in dubbio l'esistenza di Dio. Ci sono passioni tremendamente carnali, tutta una vasta e sterminata, come si può dire, genealogia, catalogo di peccati e peccatucci. C'è persino il sapere più alto, l'intelligenza più astratta che può divertare passione carnale e mortale. È veramente un catalogo di cos'è l'umanità, quali sono gli istinti più bassi e più alti. È anche un catalogo di uomini, uomini che sono abati, monaci, ma sono anche vividi, reali. È un catalogo di facce bruttissime, scavate dalla malattia, dalla vecchiaia, dalla povertà, dall'ignoranza, ma anche elevate dal loro stesso acume e spirito, perché ci sono menti formidabili, oltre a quella di Guglielmo, che passeggiano per questa abazia. E poi c'è la purezza della gioventù, il coming of age di Azzo, che al fianco di Guglielmo scopre a poco a poco, in maniera dolorosa, in maniera romantica, in maniera indimenticabile, cosa significhi essere adulti. Fa un po' di luce sulla verità del mondo, oltre lo stereotipo. E poi, per tutti i bibliofili, Il nome della Rosa è imperdibile perché è un libro sull'amore per i libri, uno dei più belli mai scritti, che esalta non solo la sete di conoscenza, che viene soddisfatta leggendo i libri, ma anche il libro come feticcio, oggetto fisico. Guglielmo potrebbe essere tranquillamente uno che parla del profumo della pergamena, ma anche come ossessione, collezione, dannazione, che rende il libro un oggetto vuoto, che viene accumulato, che genera avidità e invidia. Insomma, Il nome della Rosa è un grande classico, ancora oggi attualissimo, perché sa essere ironico. Vediamo Umberto Eco dietro tanti personaggi, sentiamo la sua voce in molte parti. Ci sono dei momenti in cui, pur rimanendo nel 1327, si sente una voce che chiaramente parla dell'epoca degli anni 70-80, ma anche del 2019. C'è una grande umanità, c'è un grande riflettere sui quesiti esistenziali che l'uomo si pone da sempre, dai secoli oscuri ai secoli tecnologici. Ed è per questo che Il nome della Rosa è un libro senza tempo, è un libro contemporaneo, perché più che essere postmoderno è ipermoderno, e è un libro che vale la pena di leggere davvero in qualsiasi anno e rilancio in qualunque momento della vita. Certo, ha un bel volume di pagine da affrontare, ma meglio, così durerà abbastanza per appassionarvi e per farvi rimanere col fiato sospeso davvero fino a, non solo alla risoluzione del giallo, ma fino all'ultima pagina e oltre. Perché è davvero uno di quei libri che una volta decenni o due viene voglia di rileggere. Quindi il mio consiglio è, vada come vada con la serie Rai, che andrà in onda stasera, dita incrociate, e scusaci Umberto se noi continuiamo a pensare che sia il tuo capolavoro e uno dei più grandi classici del Novecento letterario italiano. E si conclude così la mia recensione di Il nome della Rosa, il romanzo di Umberto Eco, di cui in realtà lo so, ve ne avevo già parlato nel video di confronto con il bellissimo film di Jacques Hennon, mea culpa, però a pure di vedere il promo della serie TV su Rai 1 mi è venuta voglia di riparlarmi, ho pensato che potesse ancora esserci spazio per parlare un po' di un romanzo così ricco in un video completamente dedicato. Spero vi sia venuta voglia di leggerlo, se l'avete già fatto e la pensate diversamente, spero che comunque il video vi abbia dato qualche spunto di riflessione e interesse, ci troviamo sempre qui sul canale e sul blog di Jacques Mio presente per altri approfondimenti a tema medievale, detective stories e tanto altro ancora. A presto!